va adesso uso lo scar e questo qua con la musica che cazzo quasi quasi non si muove cosa è q5 è questo tipo di controllo ha molto controllo si molto drop shot dai quello dietro non lo spare che cazzo sta a fare quasi muove minchia la competitività è qua del camperoni qua ci sono è un nemico minchia ma non è aperta davanti alla faccia ce l'ho pure visto per pochi secondi non è capito niente non è capito è che Ah, penso che lo uccidevano. Oh, chopper gun. Distrugge, la mia missione distrugge. I don't care about time, mi interessa. Non c'è un MP5 e lui mi ha ucciso, forte. Ah, good cats. Qua ce la stiamo giocando, sta incominciando a uccidere gente. Ho bisogno di un po' di più fluidità. Un pochino in più. Penso 7 se è la fluidità di cui ho bisogno. Comunque, questo match è un match interessante. Stiamo testando le acque. Diventerò forte? Non lo so. Forse mai che c'è gente che ci gioca tutto il tempo, giovani che non hanno niente da fare. Io devo lavorare. Sono uno sfigato. No. 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 No.